Salve, mi chiamo Daniela e sono una casalinga. Ho conosciuto lo chef Andrea Di Giglio tramite un suo video dove proponeva una delle sue ricette. Mi ha incuriosito il suo modo di trasmettere la sua passione per la pasticceria. La stessa passione che amo anch'io. E così decisi di iscrivermi al suo corso di accademia della pasticceria. Un corso veramente completo e utile anche a chi non ha le basi. Quello che trasmette è davvero spettacolare. Il suo modo è semplice di spiegare passo per passo tutte le procedure per realizzare qualcosa di dolce e unico. Mai visto uno chef darti anche piccoli consigli semplici per realizzare una fantastica ricetta. Questo corso si può apprendere tre cose. Imparare, impasticciare e assaggiare. Continuerò a seguirlo. E fatelo anche voi. E bravo maestro. Seguite lo chef Andrea Di Giglio.